Ciao e benvenuti su Marionetta Matta, il canale YouTube del disegno. La scorsa settimana vi ho parlato di Nuname, questa pubblicazione aperiodica che raccoglie artisti emergenti e li fa conoscere agli editori. Vi ho ricordato anche che il 10 marzo partirà New Factor, le selezioni, per poter entrare nel nuovo volumetto. E vi ho spiegato anche come fare per poter partecipare, quindi se non avete visto quel video ve lo potete riguardare adesso cliccando sulla scheda che comparirà qui in alto. Restando in tema, oggi voglio proporvi un'intervista che fece un po' di tempo fa a Riccardo Sartori, editor di Nuname. In questa intervista Riccardo dà degli ottimi consigli per poter creare un fumetto convincente, basandosi ovviamente sulla sua esperienza ma anche sui numerosi artisti emergenti che gli sono capitati fra le mani. Ascoltiamolo con attenzione perché le informazioni che oggi ci darà non circolano molto su YouTube, in quanto i disegnatori, i vari fumettisti, le persone un pochino più affermate, un po' più capaci, di solito tengono a tenere per sé i segreti del mestiere. Caro Marianetta Matta, apprezzo molto il lavoro che fai con il tuo blog, ovvero di insegnare gratuitamente il disegno. Se ti fa piacere vorrei darti un piccolo extra per quanto riguarda il costruire le storie. Cari autori che volete affrontare le selezioni di Nuname, avrei alcuni piccoli consigli da darvi per costruire la vostra storia. Durante la costruzione del personaggio cercate di dargli un background, di definire bene il comportamento del personaggio, cercate di renderlo coerente. Se è cinico, a meno che non gli succeda qualcosa che gli faccia cambiare idea, deve rimanere cinico fino in fondo. Qualcosa che gli fa cambiare idea può essere un evento traumatico, un qualcosa che gli fa capire che deve essere più cordiale o che magari lo trasforma anche in peggio, perché no? Non sempre le storie devono avere un dietro fine. Le storie sono storie, possono anche non finire, possono anche essere lasciate alla fantasia del lettore. Comunque, una storia si costruisce con poco, dopo vedremo come, ma concentratevi di più sui personaggi. Le persone sono fatte di sentimenti e i vostri personaggi devono avere sentimenti. Non occorre che andiate tanto distanti a cercare, basta che vi mettiate voi nei panni del personaggio. Cosa farei io? Come reagirei io? Se quello mi dice quella cosa, io ci resto male, io sono contento, pensate in questi termini e costruirete dei personaggi che funzionano. Per quanto riguarda la storia, invece, ci sono alcuni piccoli... potrei mostrarvi uno schemino e vado a spiegarvi punto per punto. Primo punto, personaggio che fa cose, ovvero voi dovete cominciare la storia presentando i vostri personaggi. Può essere un eroe, può essere lo spiegato di turno, può essere chiunque. Deve avere almeno una qualità. La missione per il personaggio non deve essere propriamente qualcuno che gli dice va a salvarmi la principessa. Deve essere un qualcosa che gli succede, un qualcosa che deve fare. Può essere anche gli esami di maturità, che abbia paura di affrontarlo, che ne so. Qualunque cosa, qualunque cosa vi venga in mente. Il personaggio ha difficoltà, ovvero il personaggio si interroga. Ma io sono capace di affrontare questa sfida, mi sembra più grande di me, non so se sono in grado, non so. Deve avere un momento di difficoltà. Perché? Perché il personaggio, punto 4, deve intraprendere il suo viaggio di crescita. Ovvero, deve cercare un modo per affrontare la sua difficoltà. Può essere appunto quella di affrontare il drago, o può essere il fatto, come dicevo prima, che non ha mai studiato e deve mettersi a studiare per l'esame di maturità. Può anche dover costruire un aereo di carta per il suo nipotino che gliel'ha chiesto e lui non ha mai costruito aerei di carta. Qualunque cosa, per imparare a fare quella cosa, deve o mettersi a fare delle ricerche, può incontrare degli amici o delle persone che gli fanno imparare quello che deve fare o comunque gli danno un input per capire come deve procedere. Insomma, il personaggio deve crescere in qualche modo. In modo che, punto 5, possa affrontare la sua missione. Lui trova il coraggio, trova la motivazione se non ce l'aveva, trova qualcosa che gli dice, ok, facciamo questa cosa. E la fa. Punto 6. Se la fa, non ce la fa. Chi se ne importa? La storia è vostra, lo decidete voi. Decidete voi che fine fare il personaggio. Il personaggio può venirne fuori bene, può uscirne dopo mille difficoltà perché trova ostacoli imprevisti, i quali non aveva pensato. In questo momento, se trova ostacoli imprevisti, può anche arrendersi, è il personaggio, può anche arrendersi. E la storia finisce lì. Oppure può trovare la forza di provare comunque. Non è detto che poi riesca a fare quello che doveva fare, ma ci ha provato. E infine, punto 7, la conclusione. Ovvero, un qualcosa che o concluda effettivamente il racconto, ovvero il personaggio che fa una cosa, come dire, ok, ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, dovrò impegnarmi di più. Il personaggio può, come dicevo prima, può anche morire, che ne so, io li faccio sempre finire male le mie storie. Oppure può succedere qualcosa che lascia in sospeso il lettore, che dice, cavolo, e adesso però non viene spiegato, in ogni caso lui la sua storia l'ha compiuta. Quello che doveva fare l'aveva fatto. Se anche lasciate un pezzo in sospeso, può essere sia una conclusione che lascia al lettore la fantasia di pensare a quello che può venire dopo, ma può anche essere un punto aperto per continuare con la storia successivamente. L'intervista finisce qui. Ringrazio di cuore Riccardo Sartori per essersi prestato a darci questi consigli davvero utili. Ora siete davvero pronti per poter partecipare alle selezioni NuFactor. Io ovviamente tifo per voi e speriamo che l'anno prossimo, quando andrò a comprare il nuovo Nuname, troverò proprio uno di voi all'interno del volumetto. Ora possiamo passare alla seconda parte di questo video, ovvero al lancio del contest di disegno della settimana. In realtà il contest di disegno è stato lanciato già mercoledì perché ho deciso di cambiare, di darvi un pochino più di tempo a disposizione per poter appunto creare il disegno per il contest. Quindi d'ora in poi, ogni mercoledì alle 19, durante la live del contest precedente, lancerò il contest successivo. Va bene? Qui c'è semplicemente un riepilogo e colgo l'occasione anche per mostrare i vostri bellissimi disegni. Il tema del contest della settimana è i quattro elementi della natura. Che cosa dovrete fare? Dovrete disegnare un personaggio inventato che abbia un legame speciale con uno dei quattro elementi della natura, quindi fuoco, aria, terra e acqua. Che tipo di legame avrà? Una parte del suo corpo prenderà fuoco? Soffierà un uragano? I suoi capelli saranno di acqua? Lancerà un incantesimo di terra? Come sempre, lascio a voi la scelta artistica e creativa del disegno. L'importante è che vi divertiate. Questo contest scadrà mercoledì prossimo alle ore 17. Mi raccomando, non più alle 18, ma alle 17, così avrò un po' più di tempo per poter organizzare la live. Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ragazzi, buon weekend e ci vediamo la prossima settimana. Un bacio a tutti i matti del mondo. Mua! 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 Mua!